Uno degli stunt su un quad, appena finito, accaldato Sì, appena finito, questo è il primo giorno, un po' di gente Siamo al Moto Days Qui al Moto Days, giustamente Prima mi sono spaventato, sembrava che stai venendo addosso a noi Tutto calcolato, sì Certamente, tutto calcolato, ma lo devo fare sembrare, insomma, è più bello poi, quando la gente ha paura, è ancora più bello Complimenti, qui siamo con Andrea Betti Andrea, ti ricordi qualche tempo fa ti feci dei video a Guidoni, a Villanova? Sì, sì, ho visto i video Adesso sei con i capelli corti Sì, sì, andiamo a lontano Cioè, eri tu prima in piedi, completamente in piedi Sì, sì Veramente difficile quello, no? Eh, molto equilibrio, sì Complimenti Adesso, buon riposo Grazie Accaldato, appena finito adesso Grazie La performance, grazie Ed eccoci qui con il terzo stunt Il freddo Il freddo Fa freddo Ah, se la fredda l'ho allontano No, più che altro non ho proprio la voce, capito? Ah, ho capito Comunque, complimenti, abbiamo visto che ci hai fatto, insomma, spaventare a dovere Grazie Complimenti Non ho potuto dare il 100% a causa di malattie Pensa un po' se stavi al 100% Complimenti comunque Grazie Siamo tutti un po' influenzati Alcuni stanno con la magliettina, il tuo collega con la magliettina Con questo vento C'è chi morirà prima, chi morirà dopo Un saluto, grazie Ciao Grazie 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 Grazie.